Ragazzi, Germania è in crisi, parliamo un po' della crisi qui in Germania, della recessione, c'è una crisi devastante, guardate qui, c'è la farmacia vuota, guarda che roba, non c'è un cliente dentro, sono le due tipe là e basta. Quindi adesso vi faccio vedere un po' la situazione qui veramente di crisi che c'è in Germania, qui c'è uno che vende gli occhiali, un paio di clienti ce li hanno e quindi la situazione così è delirante, anche qui in negozio di scarpe c'è poco nessuno, guardate c'è in giro poca gente, stanno tutti chiudendo, negozi chiudono uno dietro l'altro, quando giri c'è poca gente, disperazione, gente non ha neanche più i soldi, sì magari per un gelatino ce li ha, tipo magari questo qua di dietro, un gelatino riesce ancora a farlo. No, la cosa impressionante della Germania, della crisi qui, è che comunque tu sei in giro e non c'è mai in giro nessuno, è tutto vuoto, tutto vuoto. Guardate che roba ragazzi, guardate che roba, c'è in giro nessuno, c'è in giro neanche le ragazze, ormai non si vede più in giro nessuno, qui c'è un negozio, stanno chiudendo tutti, guardate ci sono i tavolini, sono vuoti, negozio questo qui non so che cosa fa, cos'è? Riparazioni, ha quello che fa le chiavi e niente, questo qui per fortuna è che c'è ancora un po' di soldi per il gelato, poi fa freddo in Germania, fa un freddo la madonna, guardate, infatti c'è giro già gente con i giubbetti pesanti, negozio questo è chiuso, guardate, guardate qua il fallimento, guardate, guardate qui, nessuno vi fa vedere queste cose, guardate che roba, è chiuso, vedi? Cari clienti, qua, qui, negozio chiuso, vedete? Guardate che roba qua, chi vi fa vedere queste cose? Qua, apriremo da un'altra parte, arrivederci, però è chiuso, ragazzi, questo è chiuso, questo è un negozio che poi devo andare a vedere che c'è delle scarpe, qua cos'è? Anche qua chiuso, questo qua cos'è? Chiuso anche qui, chiuso anche di là, chiuso anche questo, ragazzi, qui ormai la situazione è drammatica, qui c'è da mangiare due persone, miracolo che hanno ancora i soldi, poi in Germania c'è giro veramente nessuno, è deserto proprio, guardate che roba, c'è quattro gatti, proseguiamo, se volete proseguo, beh questo negozio è ancora pieno, c'è ancora qualcuno, andiamo giù verso di qua, andiamo verso di qua, qualcuno ha ancora due petelli, riesce a comprarsi ancora qualcosa, poi c'è l'una che si gratta i piedi, va bene, vedete, c'è addirittura, poi c'è anche la situazione, anche i forti di degrado, per esempio, vi faccio vedere, vedete, qui c'è una mangiata abbandonato, dentro lì ci sono una lattina di coca cola, guardate, un pacchetto di sigarette, non è più la Germania di una volta, adesso veramente c'è anche un degrado allucinante, questi qua, deserto, guardate qua che roba, guardate, guardate qua, c'è in giro nessuno, guardate, guardate qua, guardate qua, uno mi potrebbe dire, l'ambre, va bene, ma siamo agosto, la gente è in ferie, dove è in ferie? Voi non capite la Germania, la gente non è in ferie, è in casa perché non c'è più i soldi, mica sono andati via, c'è nessuno in giro. Siamo qui, la gente è in giro in bicicletta, e questi parlano anche l'italiano, guardate, sono in giro in bicicletta, arrivate dall'italia, da dove? Da Pisa, sono in bicicletta, ah ok, sto facendo un video, da Pisa in bicicletta, siete arrivati fino qua? Non sono in bicicletta, sono arrivati in macchina. Ah, in macchina, ah, state facendo un giro, vedete, anche gli italiani non hanno più soldi, sono venuti qua in bicicletta, girano in bicicletta, no, sono arrivati in macchina, sono qui nella Germania deserta, ho beccato tre italiani in bicicletta, c'è talmente disperazione che in Germania ho beccato tre italiani che sono in giro in bicicletta. Guardate qui, tutto vuoto, guardate che roba qua, guardate qui, qui, farmacia vuota, la gente non ha più neanche soldi per comprare i farmaci, cioè qui, guardate che roba, centro commerciale che ha aperto, non c'è nessuno, bar qua è chiuso, non so se è chiuso, magari è aperto, no, è chiuso, è chiuso perché è chiuso, ragazzi, questa è la crisi, vedete, guardate la crisi, guardate la crisi, questa è la vera crisi, guardate qui, guardate che roba, dopo dopo non ditemi che non c'è la crisi in Germania, la recessione, che gira nessuno, guarda qua, questo qua anche lui in bicicletta perché c'è la crisi, non c'è più soldi per la benzina, qui, negozio che fa il meno 20%, svende tutto perché ormai, ormai, ormai siamo messi male, centro commerciale, quattro gatti, chiuderà anche il centro commerciale, andiamo avanti, guardate, guardate che roba, ma è impressionante ragazzi, è una Germania, non ho mai visto una Germania così messa male, cioè poi anche sporco, guardate lì c'è un bastone abbandonato, è un bastone, deve essere caduto giù dall'albero, non è un bastone, però non l'hanno raccolto, qui non puliscono più neanche, guardate qui, via principale, guardate qua, non c'è in giro nessuno, guarda che roba qua, guardate che crisi ragazzi, no, adesso a parte gli scherzi, guardate qua, tutto chiuso, non c'è in giro nessuno, la gente fa fatica anche ad andare in macchina, questa qui sta guardando il bus, ma è già un miracolo che c'è i soldi per andare, bar, quattro persone, guardate, non c'è in giro nessuno, non c'è in giro nessuno ragazzi, cioè guardate che crisi, però qui così cercano lavoro, devo dire, nonostante la crisi c'è scritto, cercate lavoro, mandate qui il vostro curriculum, cioè qui stanno praticamente facendo il 20% di vendita, cioè c'è la crisi, però nella crisi qua cercano lavoro, cercano dipendenti, sì ma non ti daranno niente, ti daranno 5 ore all'ora, cioè non venite in Germania perché comunque è finita, poi costa la Germania, e quindi c'è la crisi, guardate, anche in giro, pezzo di carta lì per terra, qui dove siamo, mamma mia che desolazione ragazzi, che desolazione, c'è in giro nessuno, la gente sarà tutta in casa, non esce più perché non hanno neanche più soldi, capito? qui nella situazione economica di crisi, veramente devastante, ecco vi ho fatto vedere la situazione reale qua in Germania, vedete, guardate che crisi, non c'è in giro nessuno, tu sei in giro parli solo con te stesso, proprio una disperazione, non c'è in giro nessuno, non ci sono in giro, niente, 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 vuoto, vuoto completo, non c'è in giro neanche le ragazze, non c'è in giro nessuno, poi guardate qua, guardate qua, pacchetto di sigaretta abbandonato, anzi più di un pacchetto di sigarette oserei dire, guarda qua quanti pacchetti di sigarette, bottigliame, e non è più la Germania di una volta.